Questo è il mini ASPO di pulizia S, è un prodotto per la pulizia dei condotti fumari ma anche dei canali di ventilazione e WMC. È stato studiato per fare delle pulizie manuali su canali piccoli ma con molte curve. Come vedete è molto flessibile, viene raccolti in un cestello ed è possibile accessoriarlo con le spazzole necessarie per il vostro lavoro di diversa rigidezza. Oltretutto è anche molto pratico perché lo si può appuntare alla cintura dei pantaloni.